Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Bene, questa seconda parte della trasmissione, noi prendiamo un po' i discorsi sul crogiolo dello stregone, la via della stregoneria, diciamo così, la via della conoscenza, i strumenti che ci servono per conoscere e purtroppo devo tralasciare quello che è il lavoro di analisi sull'Upanisadra Vedica che stavo facendo proprio perché fisicamente non ho tempo per continuarla dato tutto il lavoro che devo fare sia per preparare il sito, il nuovo sito diciamo così del Paganesimo, mettere in circuito quelli che sono l'analisi dei misteri di Leusi, sia quelli che sono il commento da Teogonia Esiodea di Esiodo e quello che è anche il libro di Anticristo perché adesso in questo momento sono fuori linea, cioè non li trovate in internet se non come copia cache di Google. L'altra onda è arrivato il momento di rivoluzionare un po' quello che era internet che stavamo usando e arriva il momento in cui le cose devono cambiare, le cose quando cambiano serve lavoro, 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 lavoro e lavoro c'è niente da fare. Bene, riprendiamo un attimino il discorso sul crocello dello stregone che comunque è estremamente interessante perché sono tutte cose che non abbiamo fatto e che non ho fatto neanche durante i dibattiti in pratica quello che stiamo facendo qui, commentare, stiamo facendo sì cose di dibattiti molto vecchi cioè nel senso che quello che vi sto dicendo sul crocello dello stregone sono dibattiti che abbiamo fatto circa due anni fa qui a Radio Gamma 5, però nello stesso tempo lo sto arricchendo di tutta una serie di dati tutta una serie di elementi che anche a quei tempi due anni fa non avevo, non disponevo comunque sono venuti fuori dopo e hanno arricchito quello che è il crocello dello stregone cioè il crocello dello stregone vi ricordo che è uno dei tre pilastri fondamentali del lavoro che stiamo facendo come federazione pagana, cioè come paganesimo, come stregoneria tre pilastri che sono praticamente dati da uno le antiche religioni cioè il commento e comprendere quello che erano le antiche religioni in se stesse il secondo pilastro è la società, i principi sociali, la descrizione del male cioè la descrizione del cristianesimo come descrizione del male, come volontà di distruggere gli uomini e il terzo pilastro è la via alla stregoneria cioè capire che cos'è la stregoneria, qual è il rapporto fra l'uomo e il mondo che va praticamente a definire il rapporto dell'uomo e il mondo per cui fa parte sempre dei tre pilastri della federazione pagana cioè quella che è l'ideologia della federazione pagana dopodiché c'è la cultura generale, dopodiché c'è la ricerca archeologica dopodiché c'è un po' tutto quello che rappresentano le antiche religioni allora l'argomento di questa sera, cioè l'argomento che iniziamo è l'argomento relativo alla meditazione l'argomento della meditazione fa sempre parte fa sempre parte del mondo all'interno della natura in pratica fa parte di quella serie di dibattiti che hanno la funzione di riportare l'essere umano all'interno della natura i dibattiti che riportano l'essere umano all'interno della natura praticamente sono dieci e sono le determinazioni cioè in pratica la descrizione dell'individuo la volontà in pratica leggere il mondo attraverso le sue azioni e non attraverso la descrizione della forma la sospensione del dialogo interno che è fermare la ragione quello di oggi la meditazione contemplazione correnti vegetative vediamo un po' tutti e tre insieme cosa significa ascoltare il mondo attorno a noi palpare il mondo chiamare le cose con il loro vero nome e l'arte dell'agguato questi elementi appartengono all'essere umano cioè vengono praticati dall'essere umano per ritornare all'interno della natura cioè riprendere il suo posto all'interno della natura un posto che gli è stato negato proprio da quello che è la civiltà attuale che è il prodotto del monoteismo la meditazione in realtà voi come discorso sulla meditazione lo trovate fatto da un sacco di gente un sacco di gruppi religiosi un sacco di gruppi sociali vi parlano della meditazione del meditare normalmente però quando costoro parlano della meditazione non la definiscono mai come attività in sé fanno praticamente un miscuglio di varie cose diverse varie cose che in stragoneria vengono invece divise in tre aspetti che sono fondamentali perché la meditazione per quanto riguarda la stragoneria è legata soltanto al mondo della ragione cioè è legata al mondo del pensiero del pensato della formazione delle idee della manifestazione delle idee della descrizione dei fenomeni del mondo e delle relazioni che i fenomeni del mondo intercorrono fra di loro ma che noi siamo in grado di parlare di riferire di dialogare di trasmettere agli altri la meditazione è legata se vogliamo alla parola o al pensiero pensato pensiero parlato la meditazione è legata alla parola alla comunicazione altre culture che vi parlano di meditazione invece legano la meditazione ad altre cose in stragoneria per le altre cose usiamo due forme diverse che non sono propriamente meditazione ma una è la contemplazione e l'altra sono l'ascolto delle correnti vegetative in pratica uno è consiste nel concentrare l'attenzione sugli oggetti del mondo sugli oggetti fuori di noi e l'altra è portare l'attenzione dentro di noi a quella parte che di solito è muta che sta dentro di noi per far uscire quella che è l'intuizione per far parlare il nostro corpo alla ragione per cui ciò che in altre culture viene fatto passare per meditazione in realtà è sempre una somma di insieme fra meditazione contemplazione e ascolto della parte interna ascolto di ciò che è interno al corpo noi invece dividiamo queste tre forme cioè la meditazione appartiene alla parola alla comunicazione la contemplazione appartiene alla relazione fra noi e il mondo che ci circonda l'ascolto delle correnti vegetative è una relazione fra noi dentro di noi stessi cioè fra quello che è la ragione quello che è l'intuizione quelle che sono i fenomeni che dalle varie parti del corpo giungono alla nostra coscienza pertanto sono tre forme diverse che potrebbero anche essere definite tutte e tre forme di meditazione in realtà non lo sono perché hanno tre caratteristiche diverse ed è bene che noi le dividiamo perché tutte e tre le forme manifestano dei fenomeni ci portano ad avere dei comportamenti rispetto al mondo sia da disciplinare sia da usare in maniera corretta in maniera opportuna in maniera funzionale alla nostra vita ciò che noi parliamo è il discorso oggi cominciamo il discorso della meditazione penso che andrò avanti fino alle correnti vegetative prima di cominciare il discorso sulla meditazione vorrei farvi un po' di articoli di giornale per dimostrarvi come in realtà tutta la ricerca scientifica sta comprendendo come ci siano tutta una serie di funzionamenti sia del nostro cervello sia delle nostre emozioni sia delle nostre tensioni che fino a qualche anno fa la ricerca scientifica non considerava o pensava come inesistente per esempio il discorso empatico il discorso che vi ho detto più volte soggettivare l'oggettività cioè vivere le stesse tensioni del mondo vivere gli stessi bisogni del mondo riuscire a diventare uno a quel mondo che ci circonda fondendo insieme i propri bisogni le proprie passioni le proprie aspettative i propri desideri far sì che i nostri desideri siano i desideri del mondo e i desideri del mondo i nostri desideri costruire questa relazione per esempio è una delle conquiste che fa l'apprendista stragone perché supera in realtà se stesso supera i confini di ciò che egli è per espandere se stesso nel mondo ora detto in questo modo questo modo appartiene alla stragoneria però cosa c'è in realtà una volta detto questo sì è bello dirlo se proviamo a pensare io ho gli stessi pensieri della natura cioè i pensieri della natura sono i miei stessi pensieri i miei bisogni sono i bisogni della natura i bisogni della natura sono i miei bisogni chiaramente come specie ho la mia parte però come specie all'interno di tutte le specie ho la capacità di avere gli stessi bisogni gli stessi desideri le stesse tensioni le stesse aspettative ho un flusso un dare avere empatico fra me e la natura è bello fa eroe questo cioè chi ha questo si può pensare come un eroe però ha una realtà fisica fisicamente questa cosa è reale o è solo una fantasia la straionaria dice che è reale ma come è reale è reale per le persone che lo sentono ma ha delle basi fisiologiche per esempio noi abbiamo un articolo della Repubblica del 6 giugno 2005 che ci dice la scoperta di ricercatori italiani così il cervello risponde al dolore secondo uno studio italiano pubblicato su Nature Neurosienze la prestigiosa rivista inglese la risposta empatica al dolore degli altri oltre ad essere dettata dall'emotività risponde anche dall'attivazione di una precisa zona del cervello la ricerca è stata condotta da Salvatore Angliotti del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma la Sapienza e della Fondazione Santa Lucia di Roma con Alessio Avenanti i due ricercatori utilizzando la tecnica della stimolazione magnetica transcranica hanno osservato un contagio sommato motorio che scatta alla vista del dolore degli altri cioè praticamente si è osservato che quando noi percepiamo delle cose percepiamo dei fenomeni percepiamo una situazione emotiva emessa da un soggetto diverso da noi dentro di noi scattano dei contagi sommato motori che ci mettono in sintonia con i bisogni dell'altro in pratica ci portano a soggettivare quello che è il dolore dell'altra persona ci portano ad essere come si dice mi sfugge il termine accidenti compassionevoli cioè vivere delle stesse passioni termine della stragoneria del paganesimo vivere delle stesse passioni degli altri per cui stesse passioni significa vivere dello stesso dolore vivere delle stesse aspettative vivere delle stesse tensioni bene voi pensate a questo che è una cosa immediata che è una cosa concepibile esteso sul piano di tutta la vita sul piano di tutto il mondo sul piano di tutta la natura tutti i fenomeni che ci giungono a noi noi possiamo soggettivarli e vivere delle stesse passioni però se la cosa è così deve essere anche disciplinata perché se non fosse disciplinata sapete che casino che succede abbiamo i meccanismi anche per disciplinarla però intanto abbiamo visto che esiste un meccanismo per il quale c'è la soggettivazione di quello che è un comportamento empatico nei confronti di un soggetto diverso da noi e che noi soggettiviamo dunque esiste un meccanismo che ci permette di entrare in sintonia con il mondo in cui viviamo cioè con oggetti diversi nel mondo in cui viviamo e questo è un primo passo e allora a questo punto proviamo anche a leggerci un'altra situazione diversa proviamo anche a leggerci come arriviamo a volte a formulare o ad elaborare dei nostri giudizi cioè a volte noi pensiamo di formare dei giudizi mediante la ragione mediante il pensato mediante delle cose che noi ignoriamo e invece attenzione perché dice la salute di repubblica un articoletto eh donne e gay risvegliati dallo stesso ormone il cervello dei gay quando viene stimolato dall'odore maschile reagisce allo stesso modo di quello femminile e quanto sostiene uno studio pubblicato su Proceeding of the Nature Academy of Science la scoperta per certi aspetti sensazionale come suggeriscono gli autori del Karolenska Institute di Stoccolma porterebbe ad ipotizzare una diversa organizzazione cerebrale degli omosessuali infatti alcune aree cerebrali verrebbero stimolate dai profumi del maschio della femmina che sono un derivato del testosterone presente nel sudore maschile androstenolo e di uno steroide simile agli estrogeni presente nell'urina femminile estradione secondo i ricercatori questi due elementi rappresenterebbero rispettivamente il feromone prodotto dagli uomini e quello prodotto dalle donne in grado di agire direttamente sul cervello e stimolare comportamenti di tipo sessuale le modificazioni cerebrali prodotte quando si annusano i due composti considerati l'essenza dell'odore maschile di quello femminile sono state studiate mediante la tomografia a emissione di positroni il PET la tomografia a emissione di positroni il PET e altre due o tre tecniche sono estremamente recenti e hanno potuto verificare attraverso queste tecniche proprio la funzione delle aree cerebrali e dei collegamenti neuroanalie dunque da ricercatori coordinati da Ivanka Savic del Korolinska Institute allo studio hanno partecipato volontari uomini eterosessuali e gay e donne eterosessuali i risultati hanno evidenziato che l'ipotalamo femminile che l'ipotalamo femminile e degli omosessuali si attivava in risposta all'androstenolo mentre l'ipotalamo destro uomini etero veniva riservato solo all'estradione i due odori inoltre stimolavano prevalentemente le aree ipotalamiche anteriore e la preottica le zone cerebrali più coinvolte nel controllo del comportamento sessuale un dato che rafforza la teoria che i due ormoni costituiscono dei veri e propri ferormoni in grado di influenzare la scelta del partner sembra infatti che ciò che le donne indicano come seducente o sgradevole sicuro o inaffidabile dipenda soprattutto dalle condizioni biologiche e quindi dai ferormoni questo articolo cosa è che ci sta in pratica a indicare ci sta a indicare che spesso molti nostri comportamenti e molte nostre tensioni molti nostri modi di atteggiarsi nella vita dipendono da fattori che non ricadono immediatamente sotto i nostri sensi perché prima che avvenisse la scoperta di queste sostanze e della loro capacità di stimolare il talamo e l'ipotalamo noi non sapevamo perché certe persone avevano dei comportamenti piuttosto che altri comportamenti pertanto se la scienza viene a dirmi che guarda che con queste sostanze vai a stimolare delle aree cerebrali e la stimolazione di quelle aree cerebrali ti porta ad avere dei comportamenti anziché altri comportamenti cioè quei tuoi comportamenti sono avvengono perché quelle aree vengono stimolate significa che noi siamo in presenza di tutta una serie di tutta una serie di fenomeni che dal mondo ci giungono ai quali noi rispondiamo anche senza sapere esattamente qual è la qualità dei fenomeni perché prima che la scienza ci andasse a definire il comportamento la risposta degli esseri umani all'odore di questo tipo di feromoni la risposta a questo tipo di feromoni gli esseri umani li avevano e allora a cos'è che noi ne deduciamo che in realtà dobbiamo avere molta attenzione sui nostri comportamenti i nostri comportamenti non sono comportamenti di folli non sono comportamenti da gente fuori di testa ma sono delle risposte che noi facciamo in base a ciò che noi siamo rispetto ai fenomeni che dal mondo ci giungono e allora cosa interviene la meditazione con questo la meditazione ci permette di riuscire a capire la qualità dei nostri fenomeni all'interno della ragione all'interno del nostro parlato all'interno del nostro descritto riesce a disciplinare quelle che sono le nostre risposte anche pur in presenza di non conoscenza diciamo di non sapere perché noi rispondiamo mettiamo in essere delle azioni come risposta delle cose che ci giungono dall'esterno di cui non sappiamo assolutamente niente però abbiamo delle tensioni che si sviluppano dentro di noi la tensione sessuale è una tensione che si sviluppa verso questa o quella persona quella tensione sessuale che si sviluppa non è una cosa che nasce dal nulla ma sono delle risposte soggettive a delle variabili oggettive che ci arrivano dal mondo ora se io non conosco il fenomeno a cui rispondo comunque so che metto in atto delle azioni mie e quelle azioni io devo riuscire a leggerle in maniera corretta e farle funzionare in maniera corretta diciamo così all'interno del sistema sociale in cui vivo e la meditazione è un sistema per ottenere questo proviamo ad andare avanti ancora allora abbiamo visto da un lato abbiamo informazioni che esiste un adattamento soggettivo di empatia del singolo soggetto rispetto a stimolazioni che nel mondo arrivano dall'altra parte abbiamo visto che ci sono fenomeni che non sono descritti dalla nostra ragione ma che ci spingono a reagire e due proviamo un attimino ad andare avanti ancora eccolo qua un attimo solo ecco qua siamo tornati un attimino in linea ah solo la luce non ho visto neanche neanche le antenne muoversi veramente perfetto benissimo se tolgo una luce qua questa è la luce ah ok grazie perfetto grazie Giorgio bene vediamo un attimino perché era andato via un attimo la luce mi sono un attimino colpito vediamo un attimino ancora alcuni dei nostri comportamenti che sono considerati abbastanza diciamo così caratteristici della specie ed è il nostro vivere normale comprare vendere trafficare commerciare dare una cosa in cambio di un'altra fa parte del nostro vivere come specie vivere normale no? ebbene questo vivere come specie questo vivere normale è una delle condizioni più basse che noi abbiamo come specie cioè come individui e vi do un esempio abbastanza semplice di questo ed è tratto da un piccolo articolo del gazzettino del 6 giugno 2005 e si intitola scimmie a scuola di capitalismo reagiscono da umani New York scimmie aiale a scuola di capitalismo in un laboratorio della celebre università un economista americano ha insegnato a 7 primati il valore del denaro Kate Chen 29 anni ha usato le scimmie e cappuccino considerate fra le più intelligenti hanno un piccolo cervello concentrato su bisogni elementari come cibo a sesso ha spiegato Chen al New York Times sfruttando questo principio ha dato ad ogni cappuccino una moneta un disco argentato e forato in mezzo di 2 cm di diametro e dopo alcuni mesi le scimmie hanno capito che i rischi servivano ad acquistare il cibo desiderato quindi Chen ha introdotto sbalzi nei prezzi e nella ricchezza un ribasso del costo delle caramelle spingeva le scimmie a prenderne il più possibile con una reazione simile a quella umana posto di fronte a un gioco tipo lascia o raddoppia un tiro della monetina le cappuccine reagivano in base alla legge economica dell'avversione alla perdita i dati generali delle cappuccine ha detto Chen le rende statisticamente indistinguibili dai pescecani di Wall Street in pratica cosa che noi abbiamo che tutto quello che è la nostra base economica non è altro che un discorso elementare di specie che è stato specializzato all'interno della moneta per cui non facciamoci grandi perché usiamo un'economia di dare avere è una cosa piccola non serve intelligenza per fare una cosa del genere ci arrivano anche le scimmie cappuccine per cui non vantiamoci di avere una struttura economica estremamente elaborata abbiamo una grandissima cazzata sto parlando non dal punto di vista dell'economia sto parlando di una cazzata dal punto di vista della struttura del meccanismo dell'intelligenza che è necessaria per far funzionare quel meccanismo pertanto non guardiamo con ammirazione i nostri pesciacani appunto di Wall Street o anche i nostrani italiani effettivamente hanno un'intelligenza zero l'importante è averlo intuito per cogliere l'occasione per far fessi gli altri andiamo ancora avanti e dopo quando abbiamo messo a posto questi elementi parleremo della meditazione un altro elemento che piacerà d'amore si impazzisce ecco le prove nel cervello scatta l'effetto doping se vi leggo tutto l'articolo qui andiamo avanti a far serata uno studio usa individuato la zona del cervello dell'infatuazione lì aumenta la dopamina che modifica umore e comportamenti osservazione lo studio agli innamorati sono state mostrate foto dei loro amati uno scanner registrava le reazioni la dopamina aumentava la durata questa sorta di doping naturale tende a ridurre gli effetti del tempo ma non scompare mai del tutto il trauma l'iperproduzione di dopamina si registra anche in misura superiore quando l'innamorato viene lasciato la permanenza i circuiti del cervello restano in piena efficienza anche dopo l'alterazione dei livelli di dopamina pronti a un altro amore gli ormoni altri studi hanno accertato che negli uomini si abbassano il livello di tostesterone nelle donne avviene il contrario la serotonina la serotonina che ha effetto calmante precipita negli innamorati come in chi ha effetto da disordine ossessivo compulsivo nel cuore del cervello secondo quanto accertato dai ricercatori americani la zona del cervello dell'innamoramento è il caudate nucleus nel cuore del cervello leggermente spostata verso destra la sua posizione è quasi speculare la zona sensibile all'attrazione fisica d'amore si impazzisce ecco le prove nel cervello scatta l'effetto doping il testo su migliaia di studenti americani nei primi mesi di una relazione sentimentale è stato accertato che l'amore è un'attentica forma di malattie tra manie e ossessioni in realtà quando dal punto di vista psicologico si parla di ossessioni si parla di manie si parla di di tutta una serie di malattie psichiche quasi sempre vanno a interferire sempre nelle aree dell'innamoramento cioè aree sessuali e aree di innamoramento è solo proprio in quelle aree che avviene la distruzione psichica delle persone e la malattia mentale William Shakespeare lo sosteneva già quattro secoli o sono ma adesso giunge una conferma scientifica l'innamorato pazzo non è un modo di dire l'amore è davvero una follia un'autentica forma di malattia un cocktail di manie demenza e ossessione che sconvolge il normale funzionamento del cervello spingendoci a comportamenti irrazionali insoliti incomprensibili come comporre cento volte di seguito lo stesso numero telefonico scoppiare a piangere per non nulla perdere all'improvvisamente l'appetito che visti dall'esterno possono essere scambiati per una psicosi la prova la prova secondo una ricerca condotta di eminenti neurologi si trova in una regione del cervello che agisce da termometro delle nostre passioni dentro la quale in presenza di un innamorato si scatena una tempesta di dopamina una sostanza chimica prodotta quando desideriamo e aspettiamo un qualche tipo di ricompensa emotiva succede agli sportivi agli scommettitori ai tossicondipendenti e ora lo sappiamo anche alle vittime di cupido che possiamo dunque chiamare se ben chiaro senza intendere di offendere dopati d'amore lo studio pubblicato dal giornale of neurophysiology riferisce un esperimento condotto da specialisti di New York e del New Jersey a cui si è sottoposto un gruppo di studenti universitari tutti nelle prime settimane e i loro mesi di love story attraverso migliaia di immagini del cervello ricavate con uno scanner il ricercatore non ha stabilito che 1 l'amore romantico deriva da una regione del cervello differente da quella dell'eccitazione sessuale 2 i termini neurologici di innamoramento è simile alla fame della sete e al desiderio di droga da parte di un tossico 3 con il passare del tempo la tempesta di dopamina gradualmente si riduce pur senza scomparire del tutto perlomeno non scompare dopo due anni non sono disponibili i dati su relazioni sentimentali più lunghe 4 essere lasciati dal proprio innamorato ha un effetto neurologico simile o più forte di quello provocato dalla prima scintilla d'amore banali verità diranno gli innamorati ma un conto è fidarsi di scrittori e poeti il mio amore è come una febbre scrive la Shakespeare e un altro scoprire i processi chimici causati dal sentimento del cervello la ricerca dei scienziati americani non è la prima di questo genere neurologi dell'università di Pisa guidati dalla dottoressa Donatella Marziti erano giunti alla stessa conclusione per una via diversa dimostrando che l'amore fa ammattire perché abbassa i livelli di serotonina una sostanza con effetto di un calmante e un altro studio svolto all'università del college di Londra aveva rilevato che i circuiti neurali si modificano durante l'innamoramento facendo vedere entrambi tutto rosa ossia celando i difetti e mancanze reciproche a proposito il nuovo esperimento indica tra l'altro che quando un amore finisce i circuiti neuronali restano intatti pronti a riaccendersi in presenza di un nuovo amore la febbre commenterebbe il grande bardo sale scende e poi con un po' di fortuna torna a salire un'altra volta ve l'ho detto tutto cosa ci dimostra questo articolo questo articolo che d'amore si impazzisce questo articolo ci dimostra semplicemente perché siamo dei pazzi ogni essere umano in fondo è un folle agisce in maniera istintiva ma non agisce in maniera istintiva perché non ha testa ma proprio perché ha testa cioè perché nella sua testa si verificano tutta una serie di scoppi tutta una serie di esplosioni che lo portano a dei comportamenti e quei comportamenti favoriscono quelle esplosioni e favoriscono quelle trasformazioni andiamo ancora avanti perché ricordatevi che non si fa meditazione perché a noi ci piace meditare ma si fa meditazione perché esiste una realtà del mondo che altrimenti ci travolge esiste il mondo di fuori e il mondo dentro di noi che devono essere armonizzati esiste un comportamento dentro di noi che risponde a dei fenomeni che giungono dall'esterno che noi non conosciamo e non sappiamo che esistono esiste un comportamento dentro di noi che ci porta a vere e proprie esplosioni psichico-ormonali e noi non lo sappiamo lo sappiamo adesso perché è stato misurato ma i comportamenti ci sono sempre stati andiamo avanti ancora un altro fenomeno molto particolare che si lega al tempo studio itaustroliano spiega un fenomeno finora solo intuito dipende dal movimento degli occhi l'orologio del cervello è fuori fase rallenta la vita del 15% ah cauli dalla repubblica del 20 giugno 2005 il cervello dell'uomo perde il senso del tempo lo dimostra in una ricerca dell'università di San Raffaele dell'università di Firenze e dell'università western di Perth che mette in luce l'esistenza di una sorta di scollegamento che c'è fra la percezione della scorsa del tempo e il tempo fisico lo studio condotto da Maria Concetta Morrone docente di psicologia fisiologica dell'Ateneo milanese viene pubblicata su Nature Neuroscience la più autorevole rivista nel campo di neuroscienze i ricercatori hanno compreso che ad ogni movimento dell'occhio il cervello risponde comprimendo non solo lo spazio ma anche il tempo in pratica nel corso di rapidi movimenti oculari la mente percepisce il tempo scorrere più velocemente di quanto accade in realtà gli studiosi sottolineano che ogni secondo i nostri occhi si muovono dalle tre alle quattro volte per seguire i cambiamenti dell'ambiente che li circonda e ogni volta il cervello riorganizza velocemente i collegamenti fra neurone e neurone e tra neuroni e retina il cervello svolge in questa situazione anche una funzione di previsione cercando addirittura di anticipare i cambiamenti che interverranno effetto di questa corsa incontro al nuovo evento spiegano i ricercatori è una sorta di rallentamento dell'orologio interno del cervello tanto che si perde la percezione dell'effettivo passare del tempo attimi che assommati nel corso di un'intera vita possono portare anche al 10% di perdita di percezione del tempo fisico totale esiste un'analogia molto affascinante fra i risultati del nostro studio e la teoria della relatività speciale di Einstein commenta Maria Concetta Morrone come una velocità prossima a quella della luce spiega gli orlogi segnalano il tempo più lentamente il cervello per controbilanciare il rapido spostamento delle immagini del mondo vede le distanze relative compresse mentre il suo orologio interno rallenta lo studio si basa su un semplice test visivo i soggetti erano invitati a fissare un punto su uno schermo a due bande nere apparivano in rapida successione con un intervallo di 10 millisecondi sul suo margine superiore e inferiore il test era poi ripetuto chiedendo ai partecipanti di fissare nuovamente i punti sullo schermo il punto il punto all'improvviso scompariva per riapparire spostato rispetto al precedente alla precedente posizione di circa 15 gradi immediatamente dopo le due bande venivano visualizzate al margine inferiore e superiore dello schermo prima l'una e poi l'altra sempre a un intervallo di 10 millisecondi ai soggetti veniva quindi chiesto se avessero notato delle differenze della durata dell'intervallo di tempo che separava la comparsa dalle due bande nelle due teste quasi la totalità di loro affermava che la successione del secondo caso era nettamente più rapida dimostrando quindi come si verificasse ogni volta una distorsione nel modo di percepire il tempo cosa ci dice questo ci dice che la nostra percezione di spazio e di tempo è assolutamente soggettiva ma se la nostra percezione di spazio e di tempo è soggettiva variando la nostra soggettività possiamo percepire il tempo in maniera diversa e lo spazio in maniera diversa se noi percepiamo il tempo in maniera diversa e lo spazio in maniera diversa significa anche che possiamo vivere il tempo in maniera diversa soggettivamente il tempo in maniera diversa e lo spazio in maniera diversa allora se ciò può avvenire noi dobbiamo stabilire che cosa ci conviene che cosa ci è utile come ci è utile comprimere spazio e tempo cosa è utile per noi allora abbiamo visto con questa serie di articoli un quadro generale della realtà che ci circonda che è diversa da quello che normalmente ci viene detto e da quello che normalmente ci viene descritto questo è il motivo per cui noi per ritornare nella natura dobbiamo mettere in atto tre tecniche una è la meditazione un'altra è la contemplazione è un'altra è l'ascolto delle correnti vegetative e cominciamo dalla meditazione tutti questi articoli sono stati tutti ritagliati nel tempo raccolti sempre all'interno della segna stampa che faccio già avete sentito una trasmissione precedente io ne ho circa 400 di questi articoli cioè da quando ho cominciato a scrivere il crogiolo dello stregone ho cominciato a scriverlo per le trasmissioni di questa radio nel 1997 praticamente quando sono passati circa 8 anni subito dopo l'inizio diciamo così della trasmissione non molto dopo da allora grazie alle scoperte scientifiche grazie ai nuovi tipi di analisi del cervello diciamo così i dati che sono arrivati sono sempre stati maggiori cioè prima avevo a disposizione dei dati di inchieste sociologiche avevo dei dati di studi di sperimenti anche di laboratorio ma erano abbastanza vaghi negli ultimi dieci anni sono arrivati praticamente gli studi dell'organizzazione cerebrale l'organizzazione neuronale l'organizzazione sinapsica che hanno non solo confermato tutto quello che era stato ipotizzato all'interno del crogiolo dello stregone ma sono state fornite talmente tante cose che ormai il crogiolo dello stregone sta diventando un punto centrale anche a livello psicologico anche a livello della psicologia fondamentale cioè praticamente anche a livello nazionale il crogiolo dello stregone sta assumendo una forma centrale cioè lo so ci vorranno un pochi di anni perché venga acquisito però tutte le modificazioni che sono state fatte cioè tutti i chiarimenti che sono stati apportati all'interno del crogiolo dello stregone che fra le altre cose vi ricordo che il crogiolo dello stregone è legato a un testo del 1990 del libro dell'anticristo nel 1990 sul libro dell'anticristo vi ricordo che il libro dell'anticristo è stato depositato in Siae proprio per garantirne l'autenticità e l'originalità del testo non tanto per depositare i diritti è stato depositato per garantire l'autenticità del testo nel 1990 col testo sull'attenzione già si delineavano quelli che erano gli elementi che entravano a far parte nel crogiolo dello stregone per cui era dal 1990 la prima elaborazione fondamentale nel 1997 per Radio Gamma 5 ho elaborato la prima struttura del crogiolo dello stregone che da allora è diventato un punto centrale è stato via via elaborato successivamente proprio per renderlo più funzionale a quelle che sono le esigenze delle persone e il testo della meditazione appartiene appunto a questi tre elementi meditazione contemplazione correnti vegetative la meditazione è la tecnica mediante la quale l'essere umano mette ordine nella propria ragione l'essere umano agisce nella ragione dunque deve mettere ordine nella ragione meditare significa prendere un elemento della ragione lo si estrae dall'insieme della ragione lo si considera come un fenomeno a sé stante lo si colloca nel proprio mondo vi si trasferiscono sopra di esso le nostre emozioni cioè vivere l'elemento pensato con trasporto psichico lo si verifica e lo si ricolloca nella ragione dopo che lo abbiamo vissuto attraversato e verificato la ragione si impone sull'individuo a mano a mano che l'individuo cresce si nasce come volontà si costruisce la ragione si pratica il mondo giustificando tale pratica attraverso la ragione il mezzo attraverso il quale viviamo la ragione si impadronisce dell'individuo la ragione impone all'individuo a sé stessa la ragione costruisce nell'espressione psichica del pensato un labirinto un labirinto di parole nel quale far girare a vuoto emozioni bisogni desideri e tensioni nel labirinto della ragione emozioni desideri bisogni e tensioni si esprimono solo dopo essere descritti attraverso le parole solo dopo che sono stati vestiti di forma descrizione e giustificazione la ragione costringe l'individuo a giustificare i propri atti e questa è l'introduzione che facciamo su che cos'è la ragione attenzione stiamo parlando della ragione come metodo dell'individuo di spiegare a sé stesso di spiegare a sé stesso quello che io vi sto parlando qui per radio lo sto facendo usando la ragione non sto parlando della ragione intesa come la intendevano gli illuministi in contraposizione al buio dell'oscurantismo il buio dell'oscurantismo cosa dice dice tutto ciò che succede è prodotto del male tutto ciò che succede è voluto da Dio cioè non devi spiegare il perché delle cose esiste Dio e esiste il male Dio e il male sono la spiegazione delle cose gli illuministi dicono al tempo Dio e il male è roba vostra noi cerchiamo il perché delle cose cioè le cose hanno una ragione di essere sono espresse da qualcosa pertanto dicono gli illuministi è la ragione che deve condurre le nostre azioni e noi dobbiamo spiegare il mondo non è Dio e il male dell'oscurantismo medievale per cui si ammazzava la gente questo è la ragione la ragione deve spiegare le cose deve capire il meccanismo delle cose la ragione quando arriva intorno dell'individuo tenta di spiegare l'individuo ma anche Dio e il male sono oggetti della ragione cioè fanno parte del parlato della ragione e la ragione può spiegare le cose attraverso Dio e il male è chiaro che noi riferiamo il Dio e il male all'interno dell'oscurantismo perché è un non spiegare le cose e la ragione non spiega le cose quando la ragione si chiude su se stessa ma noi la ragione dobbiamo ampliarla dobbiamo far sì che sia una ragione ricca dobbiamo dargli informazioni dobbiamo dargli scienza dobbiamo dargli conoscenza dobbiamo dargli tutte quelle cose che servono la ragione per riuscire a capire e a spiegare il mondo allora abbiamo un'altra operazione da fare la ragione tende ad impossessarsi dell'individuo la ragione dice tutte le cose che ti succedono tutto quello che tu esprimi nei confronti del mondo tutto ciò che dal mondo ti giunge io lo descrivo in realtà non è vero la ragione non descrive tutte le cose che dal mondo ci giungono e la ragione non descrive tutte le cose alle quali noi rispondiamo con le nostre azioni con le nostre tensioni con i nostri bisogni la ragione è limitata in questo la scienza può ampliarla cioè il lavoro scientifico il lavoro di ricerca del perché delle cose dei meccanismi possono ampliare la ragione ma la ragione resta sempre limitata resta sempre un'isola di descrizione di un immenso mare che non si può descrivere allora io devo avere due atteggiamenti nei confronti della ragione uno è avere una ragione forte cioè avere una ragione capace di spiegare il più possibile capace di capire il perché delle cose capace di comunicare agli altri per cui devo avere una ragione molto forte nello stesso tempo io soggetto devo prendere il controllo sulla mia ragione cioè devo far sì di far capire alla mia ragione che la ragione è uno strumento mio cioè io uso la ragione per comunicare per descrivere per capire la descrizione del mondo ma sono io il padrone della ragione non la ragione padrone di me cioè io non devo essere obbediente ed ossequiente alla ragione ma è la ragione che deve essere un mio strumento d'uso nella vita pertanto cosa devo fare devo distruggere quelli che sono i fantasmi della ragione la ragione ha dei confini e la ragione odia che quei confini vengano spezzati e ci mette a guardia dei fantasmi ci mette a guardia Dio i santi le paure le fobie l'incapacità dell'uomo di affrontarlo sconosciuto ci mette dei guardiani feroci e i suoi limiti e io questi guardiani li devo distruggere e devo spezzare questi limiti della ragione nello stesso tempo devo avere autodisciplina sufficiente per far sì che la ragione non mi domini specialmente non mi domini con i suoi fantasmi mi obblighi sì a usarla per trasmettere per parlare per discutere per spiegare ma non domini il mio modo di essere il soggetto deve diventare padrone della sua ragione deve costringere la ragione a comprendere che lei è parte dell'insieme e non è la padrona dell'insieme e questo è uno dei più grossi successi che può raggiungere l'apprendista stregone e quando gli raggiunge l'apprendista stregone quando fa tacere la ragione quando fa tacere la ragione e riesce a far emergere l'intuizione se stesso le forze che ha dentro l'intelligenza che è sempre assopita e nascosta e riesce a capire che il mondo è fatto di tutta una serie di cose estremamente complesse e quelle cose complesse lo attraversano e con quelle cose complesse entra in armonia a quelle cose complesse da delle risposte emotive risposte emotive che avvengono mediante azione è il discorso sulla volontà che vi ho già fatto allora la meditazione ha questo scopo ha lo scopo di rallentare la ragione e per rallentare la ragione possiamo usare un simbolismo antico un simbolo che secondo me è importante da introdurre nella meditazione ed è il simbolo cretese del labirinto la ragione in realtà è un labirinto è un labirinto che cerca di tenere prigioniere quelle che sono le forze della vita i titani le forze primordiali mediante la parola mediante il parlare su se stessi e il parlare su se stessi imprigiona le nostre tensioni e noi non sappiamo spiegare perché abbiamo quelle tensioni perché abbiamo quei bisogni e la ragione costruisce quel labirinto ma noi vogliamo spezzarlo quel labirinto il labirinto della ragione lo vogliamo spaccare e come facciamo per spaccare il labirinto della ragione mettiamo la ragione sotto processo la ragione sotto processo è quando noi prendiamo un elemento della ragione Dio per esempio il Dio creatore è un elemento della ragione lo estrariamo dall'insieme della ragione lo tiriamo fuori da tutte le giustificazioni che nel corso della filosofia ne ha fatto del Dio creatore lo consideriamo come fenomeno a sé stante come oggetto in sé lo collochiamo nel nostro mondo e guardiamo cosa significa il Dio creatore nel nostro mondo vi trasferiamo sopra le nostre emozioni e vediamo quanti danni e quanti disastri ha combinato lo verifichiamo verifichiamo da dove esce e lo ricollochiamo dove l'abbiamo preso dopo che lo abbiamo attraversato ecco che il Dio creatore diventa esattamente ciò che la Bibbia ha scritto un criminale che andrebbe processato pertanto tutta quella che è il nostro impeto emotivo o rispetto al Dio creatore nella ragione viene distrutto ma viene distrutto non solo nella ragione ma nella nostra struttura emotiva che sulla ragione lo proiettava e sulla meditazione ci fermiamo qui in questo momento e andremo avanti il prossimo giovedì la trasmissione serale a continuare a parlare della meditazione vi assicuro che continuerò a parlare della meditazione anche perché devo andare avanti col sito bene visto che abbiamo ancora qualche minuto vi ricordo che sono state già stabilite le date per il rito i riti che teniamo il rito che teniamo ad agosto la Devotio sul alto piano di Asiago e il rito sul equinozio d'autunno che teniamo presso il bosco sacro di Jesolo pertanto per quanto riguarda la partecipazione alla Devotio vi invito a prendere contatti con le persone della federazione pagana che conoscete per partecipare al rito e per quanto riguarda invece il rito dell'equinozio d'autunno mi sembra che abbiamo stabilito vediamo un attimino il giorno mi sembra il 24 vediamo un attimo se riesco a trovarlo velocemente eccolo qua si sabato 24 settembre ci troviamo presso il bosco sacro di Jesolo una cosetta ringrazio innanzitutto la Susanna che mi ha mandato dei pezzi stampa e che mi ha mandato anche una cartolina so che sono in ritardo a salutarti ma purtroppo ho la testa che in mille altre parti intanto grazie a cartolina e grazie per quello che mi ha mandato per quanto riguarda poi un'altra cosetta un amico è arrivato oggi e mi ha portato 20 DVD relativi al rito del sostizio d'estate pertanto il rito del sostizio d'estate ci sono 35 minuti mi sembra 40 minuti di filmato sul rito del sostizio d'estate fate un po' voi è la prima volta diciamo così abbiamo un filmato del rito così complesso e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia Stragoneria e Paganesimo io chiudo qui la trasmissione so che sono un paio di minuti prima ma purtroppo è arrivata l'ora di andare ciao a tutti a risentirci giovedì prossimo ciao ciao